Io sono molto preoccupato perché noi stiamo già in epidemia sociale ed economica. Dobbiamo evitare che diventi contagio criminale. Rischiamo addirittura di avere più morti per il disagio economico e sociale che per il coronavirus. Pensi che Napoli è una città che vive molto di un'economia circolare, l'economia di giornata, il lavoro dell'arrangiarsi. Questi sono lavori che non esistono più. E sono tutte quelle persone che rischiano di andare invece purtroppo nelle braccia della criminalità. Perché la criminalità ha liquidità, non ha burocrazia e quindi si può presentare come quello che ti aiuta perché tu non hai il piatto di pasta, ti aiuta perché non riesci a riprendere l'attività commerciale, perché la tua azienda è in difficoltà. Quindi a me questo preoccupa molto, che si possa sottovalutare quanto la criminalità può riacquistare strade, consenso, forze economiche, politiche nel nostro Paese.